Buongiorno a tutti e a chi è collegato da remoto, grazie per essere qui, ma grazie ancora di prima chi è venuto in presenza. Sono molto contento di avere qui con noi oggi Giovanni Leghissa, il professor Leghissa che insegna filosofia teoretica a Torino e che è un prego se ci sono sedie volentieri e che è un pensatore di grande rilievo nel modo di vedere, sia nel campo della fenomenologia, sia in altri campi a cui si è accostato negli ultimi tempi, dalla psicanalisi all'antropologia, diciamo, alla filosofia della cultura e soprattutto alla filosofia dell'economia neoliberale su cui ha scritto un importante libro. È direttore di una rivista online, Philosophy Kitchen, che forse qualcuno di voi conoscerà, è una rivista online molto letta ed è membro del Comitato Scientifico di Outout, rivista antica fondata da Rizzo Baci, giusto? Vi leggo i soli titoli di alcuni libri importanti dell'ultimo periodo perché ho scritto molti, Postumani per scelta, per la critica della ragione europea, il più recente se non sbaglio che è l'inconscio e il trascendentale, e Neoliberismo, un'introduzione critica che ha assoluto avuto grandi discussioni. Vi lascio molto volentieri la parola per questa conferenza che ha per titolo L'Epochè come prassi di trasformazione del serogeno. Grazie. Grazie a te per la presentazione, soprattutto per l'invito, grazie a voi per essere qua. Sono onorato e contento di essere qua con voi, questa sede prestigiosa, dove il signor Paci, il fondatore di Outout, non più maestro del vero massimo, però sono più vicino a Paci per vedere la fenomenologia, ovviamente, ma questo ci rende pugini in qualche modo, diciamo così. Si parlava prima del fatto che qua a Milano la fenomenologia è poco presente oggi, e questo colpisce, essendo stata insomma la patria della fenomenologia italiana, grazie a Paci, ma si è poi a Bologna, il signor Melandri. Però insomma, spero che questo mio discorso si inserisca comunque, trovo la sua collocazione nel nostro ciclo di incontri, dal momento che la fenomenologia, per come la intendo io, ma come la intendeva anche Usser, in realtà non penso di inventarvi niente, che ha molto a che fare con le pratiche, dal momento che la fenomenologia, in primis, si autoconcepisce, si autorappresenta, si presenta come un gesto, come un modo di abitare l'accesso alla filosofia, poi vedremo in che senso. Ti rompo solo un secondo, quanto tempo ho? Guarda, fino all'ora va bene, no? Non è buono, c'è anche meno, però si, tengo l'orologio qua davanti, casomai non lo vedessi, casomai fossi preso l'entusiasmo, mi ricordate voi che c'erano di vita, grazie. Dicevo, la fenomenologia si presenta come via di accesso alla filosofia per Usser, parlo intanto di lui, ma poi non tratterei solo il padre della fenomenologia, ovviamente, e si presenta come via di accesso ad un discorso filosofico che per Usserl ha a che fare molto con la matematica. Usserl, come sapete, nasce in matematica, in realtà, sua prima opera è la filosofia dell'aritmetica, e lui lavora a Berlino con Weierstrass, da lì prende una nozione come quella di molteplicità, che resterà presente fino alla fine, nell'ambito della sua produzione teoretica, che resterà poi il perno intorno al quale rotterà tutto il suo discorso, in realtà, però è anche vero che, insomma, Usserl fa parte della scuola di Brentano, quindi è filosofo, vuole essere tale, ma sempre con questa vocazione, direi anche, per il formale, questo interesse per il formale puro, che appunto gli viene dal suo essere anche matematico e tercettinosofo. Cosa c'entra tutto questo con la pratica? C'entra perché, dal punto di vista di Usserl, per poter pensare, è necessario per poter pensare filosoficamente, per poter accedere a quel terreno in cui la filosofia riflette sia sull'esperienza sensibile, ordinaria, quello che lui poi chiamerà movimento naturale, per poter riflettere anche poi sull'altro coté della nostra esperienza conoscitiva, cioè il mondo della scienza, noi conosciamo il mondo che ci sta attorno e, a partire appunto dall'atteggiamento naturale, a partire da, insomma, la nostra pratica quotidiana, a partire dalla nostra cacchiere con gli amici al bar, da un lato e dall'altro lato c'è la conoscenza scientifica che per Usserl non si discute mai, non si discute in quanto fonte legittima di verità sul mondo, no? Però entrambe queste forme di esperienza hanno bisogno di una riflessione filosofica di essere fondate, cioè filosoficamente, di essere giustificate filosoficamente, a partire da un punto di vista che si ponga in qualche modo, sottolineerò poi il senso, non vedremo perché dico in qualche modo, devono essere giustificate a partire da un punto di vista che si ponga in qualche modo in una posizione di esteriorità rispetto sia alle pratiche quotidiane, sia alle attività teoretiche che sono proprie della costruzione scientifica del mondo. Questo poter chiamarsi fuori in realtà per Usserl è impossibile, non c'è un punto di vista esterno, né rispetto all'esperienza ordinaria, né rispetto a ogni tipo di esperienza, c'è un'unica esperienza nella quale siamo immersi, sia che andiamo appunto al bar a chiacchierare con gli amici, sia che stiamo chiusi in laboratorio di fisica o di chimica, sia che facciamo scopo la fila, no? L'esperienza è unica perché è unico l'orizzonte esperienziale, è unico l'orizzonte che racchiude il collocarsi di ogni soggetto possibile, questo unico orizzonte che racchiude l'esperienza, le dà forma, le dà senso, permette la costruzione del senso e la temporalità, la zeitlichkeit, come la chiama lui, che è insomma il nocciolo duro, direi, di tutta la sua riflessione, non annunciare in maniera potente la traduzione del 1905 sulla coscienza interna del tempo, come sapete. Questa unità dell'esperienza, questa unitarietà dell'esperienza, che è anche unicità dell'esperienza, deve essere però osservata da un osservatore che sia interno all'esperienza che esterno, deve essere possibile costruire una qualche forma di osservazione, adesso lo dico e poi spiegherò anche qui in che senso, deve essere possibile osservarla ponendosi come osservatore di secondo ordine, l'espressione di Luhmann, poi dirò perché Luhmann qua è importante. Ripeto, il punto chiave è comprendere che questo osservare l'esperienza, ogni esperienza possibile, chiamandosi fuori da essa, è una costruzione, una costruzione che compiamo, restando comunque dentro all'esperienza. Questa natura paradossale di gesto lusserliano, questo essere fuori nel mettersi dentro, ha poi un nome, a partire, insomma, sin dall'inizio della sua riflessione, già da prima degli anni Dieci, ha un nome ed è povero. Il primo corso in cui si identifica bene questo aspetto è il corso del Dieci, sui problemi fondamentali dell'etnologia, prodotto anche in italiano, che compare nell'edizione critica dell'opera di Husserl, l'husserliana, volume 13, primo dei tre testi dedicati al tema dell'intersoggettività. L'epoche serve a Husserl per definire, io direi retoricamente, il gesto costruttivo del filosofo che appunto deve maneggiare in qualche modo questo suo esser dentro e essere fuori al tempo stesso dell'esperienza, rispetto all'esperienza che si tratta di giustificare, legittimare, fondare. Vedremo poi anche in che senso Husser parli di fondazione. Ho usato il termine retorica. Il termine retorica può sembrare fuori luogo qui. Husserl non sarebbe d'accordo con questa mia lettura, ma magari lui stesso è costretto a usare metafore. Pensate alla nozione di flusso. Quando scrive queste lezioni, predige, mette in piedi questa sua riflessione sul tempo, la coscienza interna del tempo, chiama tutto questo flusso, flusso di coscienza, flusso della temporalità. Si rammagga del fatto che non ha altre parole. Flusso è una metafora, no? Sarebbe bello non usare metafora, ma bisogna usarla. E non c'è altro modo per definire quella roba lì. Ma d'altra parte, grandi concetti chiave della fenomenologia sedimentazione, sedimentirum, stiftung, e tanti altri, hanno a che fare con una dimensione metaforica. Diventano poi, nella produzione testuale, nel loro star dentro al testo, nel loro dar vita alla testualità susserliana, diventano metafore che perdono la loro origine metaforica, diventano catacresi, diventano più precisamente concetti operativi. Qui rimando all'ossaggio di Finck, uno dei primi grandi allievi, che appunto scrive un articolo sui concetti operativi della fenomenologia, in cui si mostra appunto che per usse tutti i concetti chiave, questi che ho appena nominato, sono concetti che non trovano una definizione esterna rispetto, o previa, ecco, mettiamola così, rispetto al loro uso. Sono concetti che si autodefiniscono nel mentre vengono usati. Servono a costruire il campo di descrizioni fenomenologiche e nel mentre servono a produrre effetti di testo, effetti descrittivi, si anche autodefiniscono. Quindi ogni concetto chiave della fenomenologia susserliana riceve il suo senso nel mentre viene usato. Qua però appunto parlerei di gesto retorico, allora. Teniamo presente, cioè qui apro quella che può sembrare una parentesi, ma non lo è, appunto per me centrale è questo, per definire appunto il gesto, non è logico, e i filosofi, come sapete, da sempre rifiutano ogni commissione con la retorica, devono farlo per ragioni di politica, per ragioni di politica nel senso alto del termine, non per occupare uno spazio nella polis, devono per forza dire noi non siamo come i sofisti e quindi si autodefiniscono come i nemici della sofistica. E da lì poi prende vita l'esclusione anche della retorica. Tuttavia, non solo Blumen, grande continuatore di Husserl, autore per me importante, che filosofi un po' snobbano, perché sul fatto appunto di metafore, mi ricordo sempre proprio questa tala, la presentazione di un libro di un giovane studioso che si è occupato di Blumenberg, è un collega degli statali che presenta, che conosceva il nostro incontro, ha detto, sì, io sono qua, così, visto perché devo, ma insomma, non mi occuperei mai di Blumenberg, perché Blumenberg non è un filosofo, in quanto si occupa di metafore. A mio modestissimo avviso, non faccio il nome di collega, ma a mio modestissimo avviso, Blumenberg è tra i grandi della filosofia del Novecento, ha il suo posto di rilievo nella filosofia del Novecento, proprio in quanto continuatore di Husserl. Come sapete, Blumenberg è occupato a lungo di metafore, ha scritto pari libri su alcune metafore, è chiaro, comincia la sua riflessione con i paradigmi per la metaforologia del Sessanta, introdotti in italiano, proprio da Bellar, fenomenologo che ho nominato prima, in quanto sostiene che i grandi filosofi, ma i piccoli in realtà, quando devono dire ciò che più preve loro, quando devono toccare l'essenziale, quando devono costruire il punto attorno al quale ruota tutta la loro costruzione sistematica, non possono che usare metafore, quelle che poi chiamano le metafore assolute. E questo vale per Blumenberg, per tutti i filosofi, ma anche per Husserl, da qua l'impossibilità di escludere la retorica dalla filosofia in generale, dalla fenomenologia in particolare, ma c'è una ragione metafisica, direi più profonda ancora, per reimmettere il retorico metaforico nel filosofico, e questa ragione ci viene proprio dalla fenomenologia husserliana, la quale parte sempre dal live, dal corpo, dal corpo proprio di ciascuno di noi. Perché questo? Perché come dicevo prima, ogni riflessione fenomenologica non prescinde dall'esperienza concreta che ciascuno di noi fa quando si alza la mattina, quando dormi la sera, e forse anche dopo quando ha iniziato a dormire e sognare, l'ultimo, in ordine di tempo, dei volumi dell'husserliana, sono più di 40 volumoni che raccolgono la locala di Husserl, più 8 di materiali, 3 di non so cosa, ma una roba disumana, basterebbe una vita per leggerli tutti, ma noi del resto ci hanno passato la vita a scrivere, quindi ci stacca l'opera postma di Husserl se è così voluminosa, e l'ultimo, in ordine di tempo, parla proprio dell'inconscio, tema che Husserl non affronta volentieri, ma se diciamo sintesi passive, il tema del sintesi passive è un tema centrale per Husserl a partire dagli anni 20, non possiamo non introdurre il tema anche dell'inconscio con o senza psicanalismo, mi avviso ci sta la psicanalisi in quanto ci aiuta a dire cose interessanti anche filosoficamente sul tema dell'inconscio, ma quando anche non volessimo incrociare Freud o Lacan perché ci stanno antipatici, da un punto di vista fenomenologico deve essere toccato anche il tema delle strutture coscienziali di cui non abbiamo esperienza a partire da lì o sveglio. Bene, il tema del corpo, dicevo, è centrale per Husserl perché tutto comincia e tutto finisce con la corporeità, quindi chi fa esperienza del mondo? Ma io, io in prima persona, io in carne ed ossa, tu, ma voi, ciascuno di noi fa esperienza del mondo in prima persona, questo sottolineare un carattere fondante del discorso in prima persona è ciò che farà sì, come sapete, che poi la tecnologia faccia la fine che ha fatto, verrà estromessa dal mestre in filo d'orofico perché come sapete oggi il mestre in filo d'orofico dominato dagli analitici ci insegna che la filosofia deve essere fatta rigorosamente in terza persona, no? Da qua la sconfitta che ha subito la fenomenologia, poi abbiamo Gallagher e altri, lo nomino perché so che era qui, no? Da voi tentano di recuperare il terreno perduto, ma è una lotta durissima e faticosa anche perché il nemico non vuole anche dialogare quando ti trovi con un nemico che non ti offre neanche il terreno di scontro si compie la guerriglia bene che vada, ma insomma si sa che la guerriglia non sempre può funzionare, in alcuni casi funziona, insomma Napoleone ha avuto le sue belle gatti da appellare in Spagna come sappiamo, però di solito i guerriglieri fanno una brutta fine, poi vengono fatti, vengono bollati anche malamente, etichettati come terroristi, eccetera, no? la filosofia che viene dalla fenomenologia non è neanche considerata la filosofia da parte di alcuni, letteratura o si capisce nel mondo, va bene, per un senso invece il discorso filosofico deve essere in prima persona perché ciò con cui si comincia è il corpo, il corpo, nella sua concretezza, nella sua carnalità, nel suo essere poi macchina desiderante come lo chiamerebbero alcuni, no? Quindi se noi ci troviamo di fronte ad una filosofia come quella osserviana che parte della corporità è chiaro che non possiamo poi, e questo poi vuol dire venendo dopo Usser, non possiamo poi escludere tutte quelle altre cose che la filosofia nella sua storia ha escluso a cominciare dall'esclusione del corpo. Se reintroduciamo il tema della corporità in filosofia allora dobbiamo reintrodurre anche il metaforico, dobbiamo reintrodurre il femminile, il folle, il malato, il bambino, l'animale, non a caso, De Rida, grande seguace di Usser, il continuatore originalissimo di Usser, poi alla fine del suo percorso filosofico si occuperà anche dell'animalità, come sapete, no? Gran parte, insomma, delle teorie che oggi, insomma, si portano avanti dentro quell'etichetta che potremmo definire in un senso molto lato, anche qui, parola, non piacereci, ma va bene lo stesso, tutte quelle riflessioni che si possono fare a partire dal tema del post-umanesimo, all'interno delle quali la produzione come quella di De Rida è importantissima, ecco, sono riconducibili in ultima analisi al discorso fenomenologico usseriano, perché Usser parla di corporità, parla anche in maniera cursoria, parla di incendi, ma parla anche di animalità, parla anche di artefatti, insomma, in Usser questo tema della corporità assume proporzioni colossali, in più ci si avvicina poi alla fase finale del suo pensiero, in cui troverà anche il tema della storia, eccetera, e partire quindi dalla prima persona, dal mio corpo, dal vostro corpo, dal nostro corpo, significa introdurre in filosofia nel luogo stesso della fondazione, nel luogo stesso della fondazione, la concretezza dell'esperienza, un'esperienza appunto che deve essere vista nella sua massima estensione, quindi appunto, includendo l'animale, il femminile, l'infantile, il folle, sono tutto ciò che la filosofia ha per buona ragione anche a suo tempo escluso e che in parte continua ad escludere ancora oggi. Si potrebbe dire che però questa tematizzazione così radicale, così forte del corpo, della corporità, dell'esperienza immediata, possa portare ad una dissoluzione o meglio ad una autodissoluzione della filosofia. In realtà non è così perché Hausser preme mostrare che è vero sì che il luogo di fondazione è il corpo ma è vero sì che insomma si deve cominciare a parlare quando si fa la filosofia con noi stessi evocando noi stessi, mettendo in scena noi stessi nel mentre parliamo tuttavia nel mentre lo facciamo si opera immediatamente uno può operarsi si opera il fenomenologo è lì per mostrare come si opera tutto ciò si opera uno spostamento tale per cui il mio parlare in prima persona istituisce una posizione che può essere occupata anche da chiunque altro. Introducendo il tema del chiunque chiedere in tedesco Usse fa opera una cosa che potrebbe sembrare miracolosa potrebbe sembrare un gioco di prestigio ma non lo è spero di riuscire a mostrarlo opera un passaggio immediato e sottolineo questo immediato alla dimensione crescendentale non potrebbe dire questo Usse è pazzito perché come stiamo parlando di esperienza concreta stiamo parlando di noi il nostro corpo e qua è in scena il trascendentale come sta storia il trascendentale di Usse non è il trascendentale di Kant tant'è che lui all'inizio della storia della filosofia sapeva poco si vede le cerche logiche senza nominare Kant solo dopo dirà che la sua filosofia si chiama fenomenologia trascendentale ma il senso del trascendentale sarà ricavato dalla sua dalla fenomenologia non dal suo richiamarsi alla tradizione trascendentale vero che lui si viene dall'Austria area culturale e filosofica in cui la tradizione kantiana è idealistica non va su diritti di cittadinanza anche per ragioni politiche in fondo perché insomma se ti occupi di filosofia trascendentale ti occupi anche di critica ma se ti occupi di critica rischi anche di criticare l'ordine esistente insomma nell'Austria sburgica questo non andava bene Bolzano perde il posto Prete però Prete è riformatore ma insomma si appassa male Brentano anche insomma era pericoloso parsi di questioni critiche nella Vienna, Braga Buddha, Presta tant'è che appunto poi i filosofi austriaci hanno preferiscono occuparsi di fisica pensate a Marx di psicologia pensate a Brentano sono scienze positive così non si rischiava di venire licenziati però a parte questi dettagli storici che comunque vanno con tutti presenti anche per spiegare quello Wittgenstein che è austriaco eppure è vero che poi Husser lascia l'Austria la Germania e lì chi dialoga con Napoli ovviamente con i neocantiani ma c'è una grande distanza sia rispetto a Kant sia rispetto ai neocantiani se deve dialogare con qualche autore del passato Husser dialoga più costo con Fium ne riprende l'empirismo lo rivisita lo riformula ma è Fium il suo introduttore in realtà non lì neanche senso è trascendentale in Husser non è quello che abbiamo bene dicevo come si fa a justificare questa presenza del trascendentale del logico della forma pura del formale potremmo anche dire in una filosofia che invece parte dall'esperienza vuole essere descrizione minuziosissima delle nostre esperienze concrete le più concrete possibili ma questo si giustifica per il fatto che l'analisi fenomenologica agli occhi di Husser agli intenti di Husser mi sembra che questo è un programma valido ancora oggi da molti punti di vista questa analisi fenomenologica deve mostrare come ogni esperienza sensibile concreta ma anche poi le cose che noi speriamo nel ricordo nel sogno eccetera così come e questo vale anche per tutto ciò di cui facciamo esperienza dentro la scienza all'interno del discorso scientifico quando costruiamo oggettualità scientifiche tutto questo è indice quel termine tecnico poi lo spiego è indice di esperienze possibili così come ogni io che parla quando dice io che prende parola dicendo io possiamo fare tutti noi in ogni momento possiamo dire io ho fatto questo io dopo andrò al bar eccetera come ogni soggetto che quando prende parola per dire io è indice di un soggetto possibile perché chiunque può dire come dicevo prima chiunque è decisivo così ogni oggettualità di cui ho esperienza per specificare meglio che noi non abbiamo esperienza dell'oggettualità di un'esperienza di cose sensibili che identifichiamo come oggetti no? però sarebbe non voglio scendere sottopo nei dettagli dell'esposizione australiana però ogni oggetto di cui abbiamo esperienza ogni oggetto che entra fra parte dell'esperienza ogni oggetto che riconosciamo nella sua identità oggettuale ecco per essere più precisi così anche ogni oggetto è indice di un'oggettualità possibile quindi ogni singola esperienza proprio perché è un'esperienza che si dà nel tempo che si svolge nel tempo che è tempo per Husserl e cioè aperta ad un'infinità di esperienze possibili future e per esse poi a un certo punto Husserl dirà anche che ogni singolo atto percettivo contiene in sé la storia percettiva dell'umanità punto genesi chiogenesi interse con l'una nell'altra sta dicendo questo in realtà ogni singola esperienza fatta da un soggetto esperienza di qualunque tipo è indice insisto su questo di esperienze possibili lui lo dice anche in altro modo ogni singolo atto percettivo è avvolto da un alone e con un'altra metafora non può fare a meno di usarla usa una metafora costretta a farlo in altri modi ogni singola esperienza percettiva ogni singola esperienza anche poi immaginativa nel ricordo ogni esperienza è avvolta da un alone di esperienze possibili rimanda alle esperienze che potrò fare a partire dall'esperienza che sto facendo ora e rimanda anche ovviamente alle esperienze pregresse che mi hanno condotto al qui ed ora perché al qui ed ora ci arrivo perché prima stavo in un'altra parte e comunque se sono nato qualcuno mi ha generato quindi c'è tutta la storia dell'umanità presente in ogni singolo atto percettivo a un certo punto usa negli anni 30 arriva a dire che alla base di ogni ontologia ci deve essere un'antropologia apriorica altro paradosso altro simono se è un'antropologia apriorica e invece no lui si esprime proprio così perché ha in mente questo intreccio di empirico e trascendentale che sto adesso tentando di delineare un intreccio di empirico e trascendentale che si dà nella singola esperienza che noi possiamo fare ogni giorno quando pensiamo camminiamo mangiamo ricordiamo scriviamo tutto ciò che è contenuto nella parte tutto ciò che viene compreso dall'estensione della parola del concetto di esperienza ogni singola esperienza dunque rimanda a tutte le esperienze possibili questo significa che la modalità la categoria della modalità è centrale per Husserl le cose esistono certamente ma più importante della definizione dell'esistenza più importante della definizione che non so fa mai un altro autore importante a cui Brentano la presistenza e la sussistenza più importante di questo per Husserl vi è la nozione di modalità tutto ciò che è è così com'è ma potrebbe essere altrimenti ed è così com'è perché delle possibilità implici del passato hanno portato al suo essere così com'è al suo sozain qui ed ora così come lo penso lo percepisco lo conosco eccetera quindi in ogni esperienza concreta io vivo questo intreccio di trascendentale ed empirico la forma logica del poter essere e dei possibili la modalità il poter essere altrimenti e la concretezza del qui ed ora si fondono altro termine tecnico della fondamentologia si fondono in ogni atto della nostra esperienza quindi l'analisi fenomenologica altro non è che il tentativo di mostrare questo intreccio guardando l'esperienza da un punto di vista leggermente sbilenco mi vorrebbe dire a questo punto come dicevo prima non si può chiamare fuori l'esperienza il fenomenologo non fa non si colloca in un altro modo modula però l'esperienza di tutti noi in un altro modo nell'esperienza quotidiana non è contenuta la possibilità per russa di diventare fenomenologi di fare anche fenomenologia di compiere cioè l'epoca e vengo al punto cruciale il punto che più mi interessa qui questa benedetta epoca russa non ci spiega tanto bene quali effetti esistenziali abbia ma è chiaro che anche gli effetti esistenziali è una trasformazione del sé una trasformazione di chi la copia perché non è un atto che compie una volta per tutte nella tua vita di filosofo non è un atto che ha compiuto una volta ussele noi oggi che siamo ci diciamo fenomenologi che vogliamo essere fenomenologi insomma lo teniamo per buono perché ha fatto ussele una volta e noi andiamo avanti per quella strada chiunque voglia essere fenomenologo deve ripetere l'epoca ogni volta che si mette a praticare una filosofia di tipo fenomenologico da qualche rattere di esercizio ussele stesso parte di esercizio poi sarà Paci tra quei continuatori di ussele che forse più di alto insisterà su questo aspetto in vari luoghi della sua opera dei suoi testi che dedica ussele cito tempo e verità negli inediti di ussele l'opera forse più importante di Paci dove raccoglie testi suoi più importanti su ussele ma poi insomma Paci ha scritto molto altro anche su ussele ma ricordo questo testo qua tempo e verità e Paci insiste su un tema che però ripeto è ben presente in ussele l'esperienza dell'epoca va intesa come esperienza trasformativa nella crisi delle scienze europee l'ultima opera insomma sono due conferenze che lui tiene ma ci lavora attorno ariani insomma l'ussele degli anni 30 diciamo così con diciamo l'ussele della crisi intendiamo l'ussele degli anni 30 l'ultimissima fase del suo pensiero nella crisi comunque nel testo delle conferenze noi troviamo proprio scritto esplicitamente che l'epoca è molto simile ad una conversione religiosa strano leggere una roba simile in ussele autore lontanissimo da ogni afflato da ogni venatura da ogni tentazione chiamatela come volete di tipo esistenzialistico da ogni simpatia anche per l'esistenzialismo è vero che lui apprezzava gli asper un po' meno Heidegger ma è vicino a quegli autori certamente con Heidegger ha avuto problemi non so perché Heidegger diventa nazista ma anche perché Heidegger quando scrive l'essere tempo avrebbe dovuto essere il coronamento dell'attività di Heidegger in quanto allievo di Husser Husser trova in mano questo librone e dice ma sto qua non ha capito niente mi ha tradito sperava fosse il mio continuatore dice no prende altre strade prende effettivamente altre strade perché non c'è traccia dell'epoca in essere tempo uno potrebbe dire ma no Heidegger è anche un fenomenologo comunque c'è l'epoca tireremo per i capelli però l'interpretazione dei testi heideggeriani se facessimo questo di fatto l'epoca interessa ha poco a Heidegger perché Heidegger aveva in mente altri obiettivi filosofici che non sono quelli comunque sia come sia possiamo dire insomma generare adesso senza scendere nei dettagli che Husser è molto lontano da qualunque simpatia chiamiamola così per la filosofia dell'esistenza di qualunque tuttavia dice chiaramente che l'epoca è molto simile a una esperienza di conversione ma in che senso nel senso che tu praticando l'epoca senza uscire ripeto ancora una volta scusatemi se mi ripeto ma il punto è davvero centrale senza uscire dalla tua esperienza ordinaria compie una trasformazione della tua esperienza ordinaria faccio un salto ma neanche tanto per spiegare con altri termini questa faccenda forse sapete che la fenomenologia di Husser l'ha tratto non solo i matematici Gödel pure matematica la pensiamo in maniera diversa da Husser Gödel dice sapete leggere una roba di filosofia leggete Husser il resto lasciatelo stare se andate in India trovate molti che dicono insomma se dobbiamo o in Giappone un po' di più se dobbiamo leggere qualcosa di filosofia europea che c'è un po' e di europeo che loro fanno filosofia noi lo inventiamo ben prima però anche in Europa c'è qualcosa interessante bravi Kahn bravi Dieghe le compagnie ma leggete Husser anche Heidegger ma la storia di Kyoto tiene in considerazione anche Heidegger ma leggete soprattutto Husser ecco come mai in Oriente c'è tutto dico Oriente non esiste l'Oriente c'è un finta che esista una Roma che si chiama Oriente dall'India al Giappone 20.000 anni di storie della filosofia diverse particolate complicate ricche perché negli orienti del pensiero questa affinità con la fenomenologia questo interesse anche il suo guardo attento verso la fenomenologia perché lì accadono cose molto simili prendiamo la grande filosofia buddista che comincia con Nagar una tradizione della via di Mezzo che poi debborda il buddismo influenza anche le scuole cascimire no Sankara e compagnia lì ci si chiede ma come raggiungere la mente illuminata l'illuminazione la mente Buddha vivendo facendo esperienza concreta della nostra quotidianità no che cos'è la mente Buddha dove sta la mente Buddha ma ne ha tua mente tu hai già la mente Buddha non lo sai però insomma ti metti lì il tutto buono meditando un pochino vedrai che la tua mente è la mente Buddha no che cosa sono i dodici fattori della coproduzione condizionata l'ignoranza il desiderio poi si arriva le chiare malattie morte no che cosa sono quegli elementi che ci fanno stare male dai quali dovrebbe liberarci no Buddha se noi decidiamo di praticare di incamminarci nell'ottubbliche sentiero che cos'è l'ignoranza il desiderio la sensazione è il vuoto dove sta il vuoto ciugnata no la consapevolezza del fatto che nulla che ogni oggetto è privo di natura propria dove sta ciugnata il vuoto sta nei dodici fattori della coproduzione condizionata sta nella nostra esperienza ordinaria di non illuminare gli schiavi del desiderio della malattia delle chiare della morte no rendo l'idea parimenti in Husserl noi troviamo che l'esperienza di trasformazione che si dà con l'epochè praticando l'esercizio dell'epochè è qualcosa che non si distacca dall'esperienza ordinaria si tratta di guardare l'esperienza ordinaria con un occhio leggermente diverso operando un leggero spostamento dello sguardo sarebbe interessante vedere come unire non lo faccio brevemente ma insomma si aprono campi di studio di riflessione di ricerche interessanti secondo me sarebbe interessante vedere come tutto questo si connetta a quel discorso che fa Foucault quando riprende il tema antico parlo antico meglio degli esercizi spirituali la fenomenologia è una forma di esercizio spirituale Foucault come sapete frappinta la fenomenologia non esista dice peste corna di fenomenologi ma d'altra parte insomma se cresci in un ambiente in cui due padri Merleau-Puntino da un lato e Sarca dall'altro sono meno male in termini la fenomenologia tu figlio che uccide il padre direi che la fenomenologia non ti interessa si potrebbe mostrare che c'è molto di fenomenologico ci sono alcuni elementi fenomenologici anche in Foucault ma adesso lasciamo stare questo l'ultimo Foucault il Foucault che negli ultimi corsi del Progetto de France si occupa di sedi esercizi spirituali eccetera ci dice delle cose che ci aiutano a comprendere anche il senso dell'epochè insomma potrei citarvi una frase dall'Armeneutica del soggetto uno dei suoi corsi se la trovo non ce l'ho qua a pagina 17 della produzione italiana Foucault scrive la spiritualità postula che la verità non è mai concessa al soggetto postula cioè che il soggetto in quanto tale non ha diritto ovvero non ha la capacità di avere accesso alla verità e Sapone come postulato che la verità non viene concessa al soggetto in virtù di un semplice atto di conoscenza la spiritualità postula la necessità che il soggetto si modifichi si trasformi cambi posizione divenga cioè in una certa misura fino a un certo punto altro da sé per avere il diritto di accedere alla verità la verità è concessa al soggetto solo alla condizione che venga messo in gioco l'essere stesso del soggetto perché così come egli è non è capace di verità insomma qua c'è Husser per Husser è chiaro tu devi compiere una trasformazione profonda del tuo essere persona ordinaria la tua ragione del tuo essere filosofo se vuoi accedere a quella comprensione del fatto filosofico dei fatti della ragione ai quali hai accesso attraverso la fenomenologia devi diventare fenomenologo devi voler diventare nelle lezioni sulla prima filosofia degli alimenti Husser inizia proprio con il tema della volontà com'è che si diventa fenomenologi? volendo diventato non è che il dottore ti prescrive a diventare fenomenologo ma se per caso hai questo desiderio di diventare fenomenologo e vuoi farlo ti incammini in una strada filosofica che ti cambia la linea ti cambia innanzitutto il tuo modo di fare filosofia ma ti cambia anche esistenzialmente perché cosa comprendi? Qual è la verità di tipo metafisico che comprendi diventando fenomenologico? ma scopri che tutto è processo scopri che tutto è contingenza altro tema chiaramente non mi invento io sempre queste lezioni sulla resta di filosofia è chiarissimo scopri la contingenza del reato contingenza che lui ricava da questa radicalizzazione del tema della volontà tutto ciò che c'è è così com'è e non può che essere così com'è nel suo darsi a me che lo percepisco ma potrebbe essere anche altrimenti potrebbe essere anche altrimenti perché nel suo darsi il ciò che c'è ciò che mi sta davanti sta porcaccia questo orologio voi è differente io stesso ciò che c'è il mondo contiene in sé la possibilità del suo essere altro questo è il senso questa è la metafisica di Husser se ce n'è una quindi non c'è tanto metafisica non è che stava via no anche per questo insomma prende distanza subito questo sto essere cosa sto essere l'essere di altri gli occhi di un fenomeno si mangia si beve si capisce però al di là di questo di questa differenza che secondo me è profondissima tra Husser e Le Haidegger se ci fosse una metafisica in una metafisica futura no in Husser sarebbe questo sarebbe la comprensione del fatto che tutto è convigenza cioè che tutto ciò che c'è rimanda ad un esser altro rimanda alla possibilità del suo stesso essere altro e qua io quando leggo Quine quando Quine mi parla dello sfondo ontologico che sta all'interno nel quale comprendiamo poi le ontologie che pratichiamo anche il grande Quine di ciò che è il messaggio su ciò che c'è insomma stiamo parlando di un po' di saldi della filosofia di Vicentesca io personalmente la mia scusatemi ma non sto facendo una battuta davvero così nella mia infinita modestia e pochezza dico però se sto quale se le torse cioè vorrei guadagnare no nel senso che tutta quella impostazione che ripeto è fondamentale perché voglio dire quindi c'è solo da lì vengono i Davidson i Armstrong i Jules e soprattutto un mondo di autori fondamentali per noi per le persone contemporanee però manca la consapevolezza del gesto che compi quando poni il ciò che c'è e questo per usare fondamentale ma per usare direi per noi perché se metti in gioco la consapevolezza della necessità che ci sia un soggetto che pone il qualcosa in quanto qualcosa cambi prospettive cambi completamente le prospettive cambi di prospettiva a livello esistenziale cioè la filosofia torna ad essere anche riflessione sul fatto umano torna ad essere riflessione in quanto sugli esercizi spirituali di cui la filosofia è portatrice accanto ad altre esperienze di tipo religioso che ci sono come sapete opposte perché insomma o vincono i preti o vincono i filosofi di solito vincono i preti se vincono i preti però i filosofi si appassano male penso a tutti noi perché l'universo tecnologico che ci sta davanti e che in parte è già presente è un universo pretesco religioso nel senso che all'idea che l'algoritmo risolva tutti i problemi decisionali di un collettivo che l'idea lì si sostiene su una mitologia è ragione lo stato puro quella roba ma di solito vincono i preti ma siccome non hanno ancora vinto siccome siamo ancora qua la nostra lotta di filosofi passa anche attraverso la possibilità che la filosofia sia percorso spirituale sia esperienza di trasformazione della soggettività ma questo però accanto ad una metafisica accanto ad una teoria della conoscenza a partire meglio da una teoria della conoscenza a partire cioè da una possibile articolazione tra il polo ontologico e il polo epistemologico se noi facciamo filosofia in senso serliano riconosciamo questo viene fuori bene in un grande continuatore di Husserl che è Nicholas Luhmann che è sociologo ma nel senso che insegnava sociologia ma è un filosofo a tutti gli effetti se ci muoviamo in quella direzione vediamo ma si può vedere già in Husserl con Luhmann non si vede meglio vediamo che le categorie di fondo le categorie portanti dell'ontologia si decidono in sede epistemologica cioè a dire si decidono all'interno di quella riflessione parte della riflessione filosofica della parte dell'enciclopedia filosofica che si occupa delle strutture del soggetto conoscente in quanto tale insisto sull'in quanto tale potrebbe essere anche un robot minore robot super non ce ne sono con buona pace avete sentito il chat di bretti dalle risposte no non conosci nulla parlato di un informatico vi dirà parlare di intelligenza artificiale se ce ne vorrei dicono dobbiamo tornare a parlare con il termine giusto di cibernetica quello è un nome da dare alla faccenda lì ma insomma se ci fosse un robot intelligente come dire la penserebbe in base a quelle leggi del pensiero che usera analizza quando finisce la tua del soggetto trascendentale eccetera quindi le categorie dell'ontologia si decidono in sede epistemologica si decidono laddove devi dire com'è fatta la struttura conoscente di ogni soggetto possibile che conosca il mondo questo è il punto mentre gli ontologi di solito quando non sanno come risolvere i loro problemi dicono entriamo nel campo della metontologia faccio un esempio banale l'ontologia si riduce ad essere un mero catalogo di ciò che c'è no sarebbe un'indagine ma l'otterezza di catalogo tutte le colonne non finisci più e non dici niente devi poter creare dei tipi all'interno dei quali catalogherai ciò che c'è ma appunto interrogandoti prima sulla definizione di ciò che c'è poi farai la lista di tutto ciò che c'è ecco questa questione non si decide in sede ontologica con buona pace di mano o di quare si decide epistemologica nel senso che la scelta che devi fare è una scelta che farei prima di costruire un'ontologia e questo prima per us è il soggetto quel soggetto trascendentale che non è diverso dal soggetto empirico e che opera delle trasformazioni nella sua esistenza se fa il fenomenolo che hanno sia una portata esistenziale sia una portata di tipo tipo metafisico nel senso appunto costruisci a partire da lì una metafisica una metafisica che ospita il suo interno paradosso ospita il suo interno una qualche forma di circolarità questo lo dice bene Merleau-Ponty invisibile invisibile altro grande continuatore di Husserl in Francia secondo me ce ne sono due essenzialmente lui Merleau-Ponty e Derrida e Merleau-Ponty in un certo punto dice se c'è una metafisica che viene dalla fenomenologia questa ha a che fare con l'accettazione della circolarità con l'ammissione con l'immissione nella testualità filosofica della natura paradossale degli atti riflessivi questo Merleau-Ponty è molto chiaro ma è chiaro anche Husserl perché Husserl tornando alla crisi cosa dice a un certo punto della crisi che l'io trascendentale e l'io empirico sono lo stesso l'io di Gottlob-Fichte non è diverso da quell'io di cui Fichte parla nella sua opera filosofica ora questo significa che la distinzione tra trascendentale ed empirico sparisca no? deve mantenersi deve mantenersi per quella ragione retorica che ho nominato all'inizio perché attraverso quella quel gesto iniziale che opera la distinzione tra trascendentale ed empirico si pone in essere la possibilità stessa della riflessione di lo so si pone in essere la riflessività in quanto luogo del pensiero che non è che noi quando pensiamo ci occupiamo sempre di riflettere su ciò che pensiamo quando pensiamo possiamo comprare una serie di altre operazioni di vario tipo possiamo conoscere il mondo da scienziati o anche da filosofi la filosofia risolve pochi problemi di tipo conoscitivo qualcuno risolve si è ontologica per esempio già stabilire ciò che esiste e ciò che non esiste una prestazione non da poco e poi interrogarsi che ne so sull'esistenza degli stati di cose o meno interrogarsi sulle proprietà ci sono le proprietà o no mettiamo nel catalogo tutte questioni sicuramente rilevantissime sulle quali non bisogno di discutere anche perché non ho le competenze per farlo ma a monte c'è appunto la consapevolezza che ti muovi in un circolo quando rifletti quando fai ontologia quando fai scienza quando per esempio stupido di prima parli a parte di amici non ti muovi nessun circolo c'è un mondo che tu presupponi davanti a te un mondo che usa chiama l'esperienza naturale l'atteggiamento naturale lo dai per scontato dai per scontato che ci sia una distanza tra te questo mondo e dici qualcosa su quell'esperienza che stai facendo ripeto in questo il gruppo di amici al bar il gruppo di scienziati dell'Issano di Ginevra non si differenziano no prendono un mondo e operano su quel mondo già da sempre dato già presupposto nella sua identità operano in modo tale da dire qualcosa di sensato o nel caso della scienza di vero no posto che tutte le teorie scientifiche abbiano il loro nucleo degli enunciati di cui si possa predicare la verità e la falsità questione controverse in ambito epistemologico adesso non entro in dettaglio no in entrambi i casi presupponi un mondo dato sul quale opererai conoscitivamente un servizio benissimo questo è quello che va fatto questo è quello che facciamo che faremo sempre niente a dire su questo ma se io rifletto su quel tipo di operazioni devi istituire un nuovo campo del pensiero un nuovo luogo del pensiero la riflessività filosofica e a questa per Husserl si accede attraverso appunto l'epoche che ho descritto prima si accede attraverso una serie di trasformazioni che comportano la consapevolezza che lì ci si muove in un cielo sto dicendo che Husserl è un hegeliano senza saperlo che dire perché uno prende la scienza logica e anche si muove in circoli la prima parte scusate mi ci muove chiaramente che l'identità di essere è nulla si gioca nell'uberge in questo termine tecnico hegeliano non nel passaggio nel traspassare continuo dall'uno all'altro gioco di rimasto un'oscillazione anche lì quindi un circolo tuttavia questo è un tema su cui hanno discusso i nostri italiani in particolare Paci e Melandri che ho già nominato ma anche per lo punti in realtà fino a che punto cioè la tecnologia di Husserl possa essere integrata con un pensiero di tipo dialettico questo quale questo non mi interessa ma mi interessa mostrare la crucialità del circolo tema a cui non si sfugge mai in filosofia quando si riflette sugli atti di riflessione questo è il motivo quando tu rifletti sugli atti di riflessione compri quel tipo di operazioni che sono proprie del pensiero qual è la proprietà del pensiero? il fatto che si esprime non è che no non è che noi perché parliamo pensiero in buona pace di Sapir-Volfe no noi perché a noi sarebbero anche le scimmie le scimmie parlano uguali probabilmente in insomma gli studi preme che compagnia si interrogano a lungo su questo non probabilmente però manca quella roba lì che alcuni sono nominocrobali mi rogo a lui perché so che sa molto lì di me queste robe parlo di ricorsività quella peculiarità che abbiamo noi noi non solo uomo sapiens perché insomma adesso più si va avanti più si vede che differenze in termini di ominini sfumano abbastanza neander parlava c'era solo segnetti sulle pareti delle grotte insomma era come a noi quasi comunque più simile a noi di quanto non avessimo potuto pensare fino a qualche decennio fa il pensiero è per sua natura ricorsività gli atti del pensiero si danno in quanto ricorsività in quanto capacità di riflettere su le operazioni che si stanno compiendo mentre si pensa qua adesso lasciamo stare dall'ordine di questa roba in termini evolutivi il fatto che abbiamo tutte queste circonvolazioni queste curve queste pieghe nella neocortecia questo giocherà sicuramente qualche ruolo un altro ruolo decisivo l'avrà giocato quella che i biologi chiamano Machiavellian intelligence non il fatto che tu devi stare attento a non farti ingannare del tuo specifico il fatto che devi vedere se l'altro ti inganna il fatto che devi adottare delle strategie per ingannarlo se vuoi questa roba qua insomma che poi in ultima analisi rimandano alla necessità di eliminare il free riding ogni gruppo organizzato ha questo unico fondamentale problema da allora a oggi eliminare il free riding se il free riding vince il free rider vince e insomma mette in crisi un po' tutto il sistema no? se lasciamo stare l'origine di questo che domanda questione che ovviamente noi filosofi dobbiamo lasciare i biologi evolutivi ma l'origine fisica di tutto questo che è fondamentale anche dal punto di vista fenomenologico noi qua però visto che non siamo biologi ci interessa la costruzione formale di ciò che accade quando si pensa questo interessa la us le proprietà formali dell'attività riflessiva al suo massimo grado un'attività che è ricorsiva all'interno di tutta la prendo questo termine la biologia evolutiva ma ci sta dentro la fenomenologia perché per Husserl ciò che sta in alto la teoria pura di tutte le forme di teoria quella che lui chiama poi molteplicità teoria delle molteplicità prendendola dalla matematica maestrasiana il suo maestro berlinese è qualcosa che si riverbera nelle forme infime di pensieri quelle che si danno banalmente quando noi compiamo un enunciato del tipo della forma SP diciamo questo è un tavolo compiamo un'operazione molto banale e semplice ma in quest'operazione molto banale e semplice sono contenute le forme pure l'essenza del giudizio della forma giudizio sono contenute in ultima analisi tutte le tutte appunto le forme senza le quali non ci sarebbe pensiero ecco perché parlo di ricorsività perché il livello alto si riverbera in quello basso e ad entrambe questi livelli spero di essere stato chiaro su questo punto se non sono stato me lo dite ma è che vedo la rodo qua davanti mi avvicina la fine di intervento quindi cerco di saltare qualche passaggio ma poi insomma abbiamo tempo per discutere anche questa ricorsività per l'Usser è data dal fatto che per semplificare non so citiamo il motto alchemico come in alto così in basso ciò che sta nelle forme più pure della costruzione teorica quelle in cui in ultima analisi noi ci incontriamo con l'etwas e l'ains il qualcosa e l'uno perché si diano oggetti possibili devono poter darsi l'uno e il qualcosa di ogni oggetto possibile devo predicare la comunità e devo predicare il fatto che sia un qualcosa a cui attaccherò altre predicazioni o che poi inserirò in contesti formali più bassi fino ad arrivare a quella forma banalissima del giudizio predicativo che insomma ci viene regalata diciamo così dalle nostre lingue naturali dalla grammatica delle lingue naturali non dimentichiamoci che il tema della grammatica prescindentale è centrale nelle ricerche logiche la quarta delle sei ricerche logiche è proprio ubicata alla grammatica venendosi a quella terza ricerca logica che è il fondamento direi di tutta riflessione sul formale da parte di Usser terza ricerca logica in cui si occupa della dottrina dell'interno delle parti una frase è un intero con delle parti un soggetto un predicato eccetera e da qua lui deduce un'ontologia formale senza scendere nei dettagli del discorso seriano mi interessava mostrare e insisto su questo la circolarità che c'è in tutto il suo discorso una circolarità che gli fa dire addirittura nella sua opera dedicata proprio al formale logica formale precedentale opera che lui pubblica come sapete Usser pubblica sempre molto poco perché non era mai contento di quello che faceva che scrive 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 poi ogni tanto però qualcosa deve pubblicare pubblica logica formale e trascendentale testo che va letto in realtà con testi vicini coevi messi assieme dall'angrebe con il titolo esperienze giudizio in logica formale e trascendentale noi troviamo una frase che potrebbe sembrare sorprendente che è questa tutto si collega con tutto anche qua uno potrebbe dire è impazzito è diventato buddista no lui di oriente non sapeva niente però dice questa roba qua che ha un sapore molto buddista in realtà è il senso del concetto di scimiata di vuoto nelle filosofie buddiste questo tutto si collegherà in tutto ma cosa vuol dire che tutto si collega con tutto ma vuol dire che c'è una circolarità nelle attività di pensiero si parte dall'empirico per arrivare a trascendentale ma ogni trascendentale si riverbererà nell'empirico einströme nel termine tedesco che usa Husser per definire questo ritorno del formale nell'empirico ma banalmente cosa vuol dire vuol dire che io per far capire questa roba per poter reticolare una qualunque teoria devo disporre dei sincategorematici non solo io per definire il soggetto o non solo questo per definire l'atto fondativo della filosofia che è la sepsum il posizionamento questo indicare col dito tema centrale in Husser sindale per ricerche logiche ma tema centrale anche in Wittgenstein come sappiamo tutta la sua riflessione non ho bisogno solo quindi del questo dell'io ma ho bisogno del e del o del non soprattutto ho bisogno di questi incategorematici che tutto sono meno che natural kinds non sono oggetti di natura non li trovo qua come trovo alberi case sedie eccetera e che sono il logico sono la struttura connettiva del formale per poter articolare il formale devo avere questi vengimenti particelle e non se allora anche l'implicazione e le congiunzioni eccetera tutto questo questo elemento formale dove si dà? si dà nell'esperienza è già dato nell'esperienza e devo poterlo vedere nel suo darsi nell'esperienza e con l'epoca è quella roba lì che te lo fa vedere che ti fa vedere la connessione tra il piano alto mettiamo così il piano amato dei filosofi il piano del formale che poi per i logici non avrà poi freghi in avanti nessuna connessione con il piano dell'esperienza e invece per usa deve essere connesso al piano dell'esperienza attraverso l'epoca io faccio esperienza sia del formale duro sia dell'empirico della sua bassa oggettualità l'oggetto che vedo qua davanti a me qui ed ora fonte legittima di verità evidenti per usa faccio esperienza di entrambi ma nel loro unirsi nel loro riverberarsi l'uno nell'altro ecco e concludo l'elemento trasformativo dell'epoca ecco perché l'epoca è per usa anche luogo di esperienza religiosa può essere paragonato ad una trasformazione ad una conversione religiosa perché qua tu devi cambiare mentalità devi poter ammettere il paradosso devi poter ammettere la circolarità anche se non diventi dialettico anche se è troppo difficile studio ecco ci sta non mi interessa un fico secolo della dialettica devo poter ammettere la circolarità nel discorso devo poter fare della circolarità dei processi fondativi la mia metafisica devo porre lì il metafisico senza mai uscire però dall'esperienza ordinaria senza mai scuotermi muovere di un centimetro dal mio essere uomo in carne ed ossa dal mio essere membro della specie homo satis questo è il punto e questo credo sia l'elemento veramente trasformativo della fenomenologia e ciò che rende anche la fenomenologia insomma diversa da molte altre filosofie affine come si diceva sempre al pragmatismo in realtà perché in tutto il discorso fenomenologico c'è una forte insistenza sul carattere pragmatico dell'oggettività non della verità verità quella di tassi l'SP è vero se sono SIP questo è evidente ma agli occhi di Husserl tuttavia ciò che noi diciamo del mondo oggettivo quel mondo oggettivo sul quale si incista il nostro enunciare il nostro proferire enunciati della forma SP dei quali ci chiederemo se sono veri o falsi la costruzione di un mondo oggettivo ha a che fare con la Selbstverhaltung a diritto tema ripreso poi a fondo dal Blumen Bertogiano di Nato c'è una dimensione assolutamente pragmatica in tutta la fenomenologia australiana in particolare nell'ultima fase degli anni trenta perché conoscere il mondo perché abbiamo bisogno di abitarlo perché è fondamentale sapere dove è la destra dove è la sinistra dove è l'altro dove è il basso dove è il davanti e dove è il dietro a cominciare da questo orientamento basale basilare della mia corporalità io poi mi muovo nel mondo e da lì costruirò metafisica partire da questo legame con l'orientarsi nel mondo un mondo abitato da altri che come me e concludo hanno due occhi qua davanti non ci si vede guardare dietro non ho un terzo che ho qua nella nuca quindi da qua la nascita della fiducia devo fidarmi dell'altro che mi sta dietro devo ipotizzare che non mi accoltelle alle spalle da qui le istituzioni tema su cui insiste merlo.ti su cui insiste anche blumenberg la dimensione della storia storia cos'è è il succedersi di alcune istituzioni fondanti ed essenziali che poi si sono rese abituali si sono mantenute nell'essere al punto tale che le teniamo ovvie mentre ovvie non sono perché insomma ricordiamo alcune più importanti quelle che determinano tutta la nostra esistenza famiglia proprietà privata e Stato sono tutto meno che ovvie hanno 5.000 anni non di più non di più insomma su 190.000 anni in storia della specie a me sembra veramente poco e sarebbe anche ora di finirla con tutto il premio modestissimo avviso ma questo sarebbe un tema di un altro complemento ovviamente ma insomma lo storico lo storico dimensione dell'istituzione della cultura delle forme simboliche di Cassire chiamatele come volete la cultura nel senso antropologico è data dal fatto che io non vedendomi guardare le spalle non potendo guardarmi le spalle devo dar vita a collettivi organizzati all'interno dei quali si istituiscono rapporti di fiducia all'interno dei quali si gestisce il problema del free riding eccetera eccetera ma è sempre all'interno di una storia che è la storia di Cornappi che tutto questo avviene e Usser lo tematizza con profondità dovizi anche di particolare anche se poi lui non si va a occupare direttamente né di biologia né di altro ma il punto è che per Usser tutto questo è il terreno su cui si incista anche la pratica scientifica la conoscenza scientifica del mondo che magari anche quella tra l'altro è recentina perché una volta che fai le città inventi la scrittura una volta che inventi la scrittura non solo scriverai le genealogie delle case regnanti ma o degli dei scriverai anche ciò che ti serve per gestire quel collettivo che è la città che sia uro uro che ha nessuna importanza dovrai inventarti anche la geometria infatti Usser coglie benissimo questo punto senza scrittura niente pensiero nella terza appendice delle scienze europee parla anche lì usando uno simolo di a priori storico che cosa fonda la storia qual è l'elemento a priori della storia ma il suo potersi inscrivere ma l'atto di scrittura lo dirà poi Derrida commentando questo testo è un atto banalmente empirico la scrittura non c'era da sempre c'era da un certo punto in avanti ecco questo istituzionalizzarsi del sapere che ne garantisce sia la storicità garantisce anche la sua idealità il suo poter fissarsi in quelle forme pure che per l'usso matematico restavano comunque insomma oggetto di riflessione importante però sempre all'interno di una circolarità che va messa a tema il mettere a tema questa circolarità significa sporsi al paradosso della fondazione cioè ad una fondazione che si sa infondata perché storica perché gli atti di fondazione sono ciascuno di volta in volta dati in un'epoca storica a questo una connotazione storica ben precisa pur restando pur alla forma del fondare ecco tutto questo questa circolarità questa paradossalità ha una rilevanza esistenziale è concludo perché accogliere questo nel nostro pensiero di filosofi ma anche la nostra esperienza ordinaria comporta l'esporsi ad una dimensione di rischio è molto più rassicurante eliminare i paradossi dall'ambivalenza l'emiguità anche poi le metafore i corpi la follia la filosofia è molto più rassicurante farlo è molto più rassicurante immaginarsi di poter fondare in senso assoluto come voleva certa filosofia tradizionale devo rompere ecco si era staccato qualcosa no è che mandava la carica e si stava scaricando il computer adesso va adesso va ho schiacciato l'interfondo concludo questa accogliere questa circolarità è psicologicamente esistenzialmente questo è chiaro non è chiarissimo ma si evince e poi verrà ripreso appunto gli autori che ho nominato in particolare Blumenberg direi accogliere questa circolarità e questa paradossalità ci espone ad un'insicurezza di fondo non indifferente è molto più rassicurante molto più vicino a quella pulsione securitaria che ci abita anche questa come specie direi è molto più rassicurante quando si fa filosofia fa rapidamento a fondazioni ultime di tipo teologico alla fine quando anche il Dio in questione sia Dio di Aristotele che è un Dio materiale un Dio che sta dentro al cosmo ma sempre un Dio è sempre un elemento che è al di là del quale non c'è niente ecco è molto più rassicurante ragionare e vivere in quei termini vivere da famiglia non significa dire che al di là del fondamento cosa c'è ancora esperienza la nostra al di là di questa esperienza cosa c'è un altro fondamento che la giustifichi e così via e così via immervida come dicevo sono sempre di nuovo ecco in questa morasi questa circolarità è abbastanza spiazzata e credo che però ne valga la pena vi fermo qua e vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie infinite hai gettato sul tavolo tantissimi spunti diciamo che diventano spunti di riflessione io condivido completamente la tua lettura di Tusser che è un autore che non conosco a fondo magari inizio io a farti delle domande ma proprio di precisazione può servire la riduzione la riduzione fenomenologica di cui parlavi è quella che si esprime come riduzione idetica è uno degli aspetti è uno degli aspetti di cercare di chiarire come sia composta forse non c'è proprio l'essenza dei fenomeni altrimenti non riesco a vivere è incredibile una questione di vita vita di vita o di morte allora la lettura trasformativa mi convince assolutamente mi piace incredibile che tu sia venuto oggi perché ho fatto una lezione qualcuno di loro è qui in cui parlavo proprio va bene di Fadò di Foucault quindi delle cose che anche tu hai richiamato della filosofia come esperienza di trasformazione e loro parlano esplicitamente di conversione nel senso ovviamente non della conversione religiosa allora lo sottolineano molto chiaramente ma del convertere lo sguardo su quello che si sta facendo quindi dell'estrota greca della meccanoia quindi del del ritorno a sé ma anche della mutazione di questo processo allora ti volevo fare una domanda per legare quello che hai detto al problema del pragmatismo delle pratiche che si ricordano c'è una famosa espressione di Peirce che cerca di chiarire il principio del pragmaticismo perché in quell'occasione lui parla di ciò che distingue lui da James o gli altri e dice prendete questo tipo di pensiero che può accadere a un immolino si entra in una stanza e sentiamo un caldo serfocante mi esprimerò con la proposizione che ho evidentemente nella mente pensiero e linguaggio in quel caso si accostano l'aria di questa stanza è serfocante tutto ciò mi conduce immediatamente ad andare alla finestra è qualcosa del giudice quindi non c'è più la differenza tra l'empirico e il trascendentale ma ancora di più tra il mondo dell'astrazione del pensiero e il mondo della pratica in atto che traduce quel pensiero in qualcosa da fare e c'è pensiero al di fuori di questa necessità di traduzione per un altro allora per come la vedo io la chiave è il fatto che nel corso dell'esperienza ci incontriamo con ciò che fa resistenza chiamiamo il scientifico al massimo il reale è ciò che resiste la concettualizzazione questo per Russia è chiarissimo penso anche che si sbaglia anche per il 2 ottobre nell'ambito americano ovviamente c'è questa idea c'è qualcosa che resiste alla concettualizzazione Russia parli uberschuss eccedenza non c'è qualcosa che cede il concettuale questo non significa che noi non possiamo dare forma no parli messa in forma categoriale significa che non possiamo dare forma all'esperienza lo facciamo fa parte dell'esperienza il fatto che diamo forma all'esperienza formando giudizi costruendo teorie scientifiche quello che volete però il reale di suo resiste si tratta di interrogarsi su questa resistenza di parle posto questo significa che ci sono atti di pensiero che si incontreranno con quella resistenza attraverso forme di pensiero costruendo forme di pensiero che non sono quelle della filosofia questa è una conclusione che io mi sentirei ritrarre da questo discorso Russia non la trae la trae per esempio Haide città no Hölder in alle la sglaibet abersticht in die dichte ciò che resta lo fondano i poeti ma a me più che i poeti poi qua lo stratega visto che a pochi chilometri a qua 2003-2004 c'è una guerra terrificante in corso e vorrebbe da fare commenti su questo magari mi trattengo la e Klaus Witz grande filosofo secondo me dell'Occidente della modernità tutti gli effetti era un pensatore comunque fa ruotare tutta la sua riflessione sul fenomeno della guerra che sull'antropologia in realtà sull'istituzione sul politico perché von Kriegen è un trattato sul politico in realtà fa ruotare tutto a partire da una notizia di frizione cioè qualcosa che fa frizione la guerra dice all'inizio della cosa più semplice di questo mondo quando la fai scopri che è la più complicata perché perché non sai ciò che succede con me non sai cosa fare al tuo avversario quindi poi vai a dire porta il momo per la guerra eccetera questo elemento di frizione se facciamo stare Klaus Witz è irreale e tutto ciò che noi facciamo è un tentativo di vivere appatti con questo elemento di frizione qua io inserisco la natura pragmatica dell'attività filosofica perché l'attività filosofica diventa una prassi tra altre che ci aiuta a venire appatti con l'elemento di resistenza della reale io posso anche non pensare alla filosofia posso non sapere niente di filosofia e vivere bene lo stesso a patto che faccia tutta una serie di robe che posso essere meditare che posso non essere fare sesso la mattina la sera drogarmi quello che volete a patto io faccio altre cose che mi permettono di venire appatti con questo elemento di frizione quello che poi Blumenberg chiamerà l'assolutismo della realtà la realtà incombe col suo peso mi opprime in qualche modo mi opprime soprattutto con il suo non senso perché ci sono le cose e poi di conseguenza perché sono venuto al mondo boh ma non lo so ma proprio non lo so devo trovare dei modi per venire appatti con questo non sapere con un non sapere che però genera teoria tra le teorie che genera c'è la teoria filosofica che io vedo come una tra altre a me tutto questo discorso che ho fatto a me preme che si smetta di dire che la filosofia è il sapere fondativo che fonda tutti gli altri la filosofia certo che fonda fonda perché ha il compito di fondare alla scienza tu non chiedi fondamento ma non perché non sappia fare ma perché è un altro mestiere semplicemente svolge altre funzioni teoretico-conoscitive la filosofia dentro l'enciclopedia è quello spazio che noi chiamiamo per convenzione la filosofia non chiamiamo altri nomi peraltro quello spazio in cui ci si occupa della fondazione in cui ci si chiede quali sono le condizioni di possibilità dell'esperienza eccetera ma bene quindi la filosofia deve occuparsi della fondazione ma lo fa come una pratica teoretica tra l'altro questo è un punto che mi interessava andare verso un antifondazionalismo radicale che però salvi la filosofia nella sua specificità se ci fossero i filosofi che fondano a fondare sarebbero gli scienziati per esempio con conseguenze per noi catastrofiche perché lo scienziato che fonda adesso lo analizzo al massimo ma però il rischio c'è lo scienziato che fonda costruirà un mondo tecno-scientifico simile ai totalistarismi distopici che vediamo nelle serie Netflix o che leggiamo nel libro di Philip Dick probabilmente ma posso perché si collega secondo me a questo che stavo dicendo io sono molto d'accordo e mi è piaciuta molto questa interpretazione di Husserl nel senso trasformativo in filosofia delle pratiche appunto secondo me io non so se vederla come una frizione o come invece agganciarsi benissimo con quello che stai dicendo tu quando Husserl parla di voler fondare una scienza della fenomenologia una scienza del mondo della vita dice proprio questo cioè fare un passo indietro è stata una scienza perché se invece lo come dire interpretiamo come voler fare una scienza filosofica nel senso degli scienziati allora siamo in contraddizione con tutto questo ma la scienza del mondo della vita è possibile la Husserl ci prova ho detto con eriti certi perché poi lui definisce malamente la questione è di nuovo inizio ma poi muore sì sì nel senso che poi sono tre volumi da prendere in considerazione quello legato con quella crisi ma poi anche il 29 il 39 dell'Usserliano c'è una marea tutti i testi di vita di Husserl che ruotano tutte le tematiche c'è da un lato lo spingersi verso un'antropologizzazione intrascendentale che sarà poi la via ripresa approfondita da Blumenberg e in parte direi anche da Derrida per certi versi o da Gallagher in tutt'altro modo usando altre concettualità ma anche tutto il tema inaugurato dal libro di Varela e altri Naturalizing di fenomenologi dialogo con la neuroscienza biologia evolutiva quella è una mia sicuramente implicita dei testi usserliani che secondo me non è sufficiente ma è secondissima comunque e poi appunto c'è il tentativo che più vicino di formalizzare la Lebes ma poi non ci riesce la Lebes è un mondo di evidenze pure ma Lusser che dice che c'è la Lebes come mondo di evidenze pure è lo stesso Lusser che ti dice l'evidenza pure non sta esatto questa è la contraddizione che le devono feconda perché quella roba lì questa muoversi in quella contraddizione permette al fenomenologo Lusser di stando fedele poi all'espirazione originaria al suo pensiero gli permette di costruire una filosofia dell'esperienza che ti dia strumenti conoscitivi filosofici validi tanto per analizzare la Parneimu la percezione quanto per analizzare ciò che fa il matematico quando si incontra con le evidenze di questi oggetti strani che comunque sono interne alla temporalità perché per Lusser la Zeitlichkeit comprende anche gli enti matematici che né sono né non sono ma vanno cioè a dire sono dotati di uno statuto ontologico indipendentemente dal fatto che ci sia qualcuno che li pensa tuttavia si danno a noi che li pensiamo quindi hanno un rapporto con la temporalità della coscienza del soggetto pensante e quindi anche loro stanno nella Zeitlichkeit hanno la forma della Zeitlichkeit stanno nella onnitemporalità lui si inventa questa espressione per dire appunto che valgono sempre il punto che io segno su una lavagna vicino a una retta è la rata o il quinto teorema di Euclide non è il punto che segno lì sulla lavagna il punto che segno è la retta che traccio sulla lavagna devono valere anche poi quando usciremo dall'aula io cancellerò dalla lavagna il punto e la retta perché le proprietà che ho definito di quel punto e la retta hanno una validità universale indipendentemente dal fatto che si è infatti Euclide non è esistito probabilmente chiunque ponga quegli enti quegli enti hanno quelle proprietà poi arriva Rima abbiamo altre geometrie però infine quegli enti lì esistono da qualche parte nella Zeitlichkeit ma se io li penso devo poter da fenomenologo ricostruire le operazioni che faccio quando penso nel matematico da quale avvicinanza se vogliamo anche con Bruber c'è un po' di letteratura su Bruber e Rousse poi Rousse ha letto Bruber ma si va in direzioni affini la teoria delle categorie la nomino perché io non so niente scusate voglio fare ecco sto decisivo per me è il guaditore di un libro fondamentale per me che non so niente di matematica quindi io è stato illuminante ecco quella roba lì ha a che fare con questo discorso c'è un po' l'ente matematico che sì che l'ente matematico prescinda dall'essere stato posto ma se io da fenomenologo vado a vedere cosa succede quando qualcuno pone un ente matematico qualunque compio delle operazioni che sono le stesse che compio quando analizzo la percezione sistema questo è il succo direi di tutto il discorso perché come ho letto Rousse questi anni grazie sentiamo grazie spesso ti parlo io già ci matematico come ho detto insomma ti ha partito un paio che però magari mi teniamo perdono così imparo anche io qualcosa come lei sai non so dire c'è alcune domande che rinascendo per l'intervento in particolare legavo i tre passaggi che ti facevano da quando si discuteva come dire l'immagine analitica dell'entologia invece portando quindi un aiuto un aiuto per un olologico appunto dove si decida le chiedi in serie e sistemologica e in fondo la serie sistemologica questo mi sembra che è un gesto e tipo per questo punto mi veniva in mente un po' prima che mi sembra che funzioni e su questo poi ha insistito molto ma è una cosa che c'è anche in faccio però come dire questo inizio questa conversione dello sguardo innanzitutto già spesso per cui insomma ci sono queste dimensioni che si richiamano molto interessanti e allo stesso tempo questa è una cosa che non mi ha ancora convinto diciamo da quando ho iniziato a studiare l'ocene di quest'aula e all'epoca centralizia che è un'analogia per cui si sentiva la teglia che anni fa però insomma studiando l'Uster ma non solo una specie che mi sembra sembrato un po' problematico e in questo quello ho trovato un tema della problematicità è che questo inizio sia effettivamente realizzabile nel senso che poi sappiamo un pochè a diversi aspetti mi sembra anche interessanti poi vediamo gli altri fenomenologi chi compie effettivamente un pochè come diceva l'Uster stesso è molto problematico ovviamente soprattutto con le critiche che riguarda in fondo in fondo a livello generale si capisce se ne capisce di tanta e anche questo come dire ma è possibile dare un termine questo questa è una domanda che per l'altra parte l'obiezione dicevo che ho trovato in Peirce che non fa Uster ovviamente ma fa cartesio appunto che ha un inizio cartesiano questa dimensione di sorpensione del giudizio che altre prospettive come il quale di noi dicono e per esempio in particolare questo esperimento di questo chiamandola paper doubt ma perché dobbiamo la filosofia ha un inizio che si colloca appunto da quella immanenza dell'esperienza che pone da sé dei problemi non devo ammesso e non concesso che sia possibile non devo sospendere uscire in qualche modo oppure mantenere questo stramismo nell'epoca per far filosofia ma è dall'idento dell'esperienza adesso in generale che mi si pongono dei problemi che mi invitano a convergere lo guardano a modificarlo a sospendere questo poi è affermatino di riferire in tanti modi perché magari come dire un giui è più strumentalista nel leggere questo però sta a mettere la dimensione dell'idealità sto pensando ad esempio a come parlare della legge che è una legge universale però è diciamo all'inverso di quello che prima diceva Rostella non tanto come si parte dal pentiero all'azione ma è l'azione che mi richiede il pentiero però a questo punto l'universalità della legge io non la scopro a priori sospendendo studiando e studiando le strutture di etiche ma la scopo nei termini della generalità della potenzialità che alcune azioni mi richiamano cioè della potenzialità che è implicata da alcune azioni che io si tuino e questo mi sembra una dimensione che ma questa è una domanda perché sinceramente non mi ricordo da lo studiato ma non lo so mi sembra che questo è come se il pragmatismo però che in particolare lo conosco meglio avesse uno guarda la cruciale universalità e la possibilità di queste strutture che volano al futuro in termini appunto di una generalità che è un coserettere e invece Ulster abbia in questo ancora come dire una matrice di strutture che guarda qual è il passato ecco ho messo insieme qual è questa domanda diverte però e poi anche sull'indice ma il punto chiaro è proprio l'indice comincia dalla fine a prossimamente qualche cosa me lo ricordi per usare chiarissimo che il formale si dà nel senso questo lo mette in evidenza sia nell'opera principale domanile nelle ricerche logiche e poi in tutti i modi anche dopo l'inizio nelle ricerche logiche usa come concetto operativo l'azione di intruzione categoriale poi l'abbandona ma ripierà le stesse cose appunto parlando del pochetti ma sono quelle robe lì cioè io nell'esperienza sensibile mi si danno già senza compiere un atto ulteriore di riflessione questo insiste mortalmente direi a noia senza compiere un atto ulteriore di riflessione scopro ecco la parete di riflessione montagna so senza formulare giudizio che quello è un elemento non indipendente di un intero cioè il cerco ma lo so non perché compie un atto di giudizio adesso vedo una testa di cervo attaccata alla parete beh lì sicuramente apparteneva un intero che era un animale non faccio questa operazione lo sto già e questo vale sempre per luce in ogni nostra esperienza mettiamo all'opera senza saperlo senza volerlo quella logica dell'intero delle parti che per luce è il fondamento del formale puro perché poi lui quella roba lì la ritrova anche nelle formule pure ma se io mi occupo di logica di matematica di storia della fondazione opero comunque con interi e parti con molteplicità che permettono di inscapolare l'una nell'altra le varie componenti delle formate la giudizia di politica dei numeri reali dei numeri immaginari di un insoccupato tra l'altro su invito di Hilbert a una conferenza con Tinga su questo insomma Husser ha seguito sempre il sviluppo della matematica qui c'è tutta una disputa tra chi dice Husser in realtà dopo l'intero del cane no Husser aveva interessi fondativi che sono più radicali ancora di quelli di Hilbert se il progetto in Bertiano viene messo in crisi dai corrimi di Goethe il progetto australiano no perché non mira a quel formale mira ad un formale che precede sia l'esperienza matematica che l'esperienza sensibile tenendola assieme perché si danno assieme questi elementi quindi direi appunto la non c'è tutta la di Platonico è stato un certo Husser può sembrare Platonico prende solo idee allora lì ci sono problemi infatti per un lungo tempo Husser è stato preso come l'autore di idee non è ancora uscita tutta l'husseriano e quindi è evidente che teniamo conto del fatto che Husser stesso dopo aver pubblicato l'idee dice tutt'altro le opere successive anche quelle che pubblica vanno decisamente in tutta altra direzione insomma la logica for me precedentale che ho citato prima è chiarissimo su questo va bene al di là di idee quindi non c'è residuo Platonico direi in nessun senso almeno che non interpretiamo anche Platone come quel tipo come materialista e secondo me questo è possibile l'idea platonica è un paradigma ha una valenza pragmatica serve ad ordinare l'esperienza e comunque tutte le idee sono geraticamente ordinate dipendendo dall'idea del Tohara Tom il Tohara Tom è al di là dell'essere cosa significa l'idea del Tohara Tom significa solo che non si dà l'idea del bene come si dà l'idea dei tavoli o dei numeri ma significa che ha una valenza pragmatica significa che dà senso al conoscere perché conosciamo il mondo perché poi saremo felici e non saremo l'eudaimonia perché per seguire la giustizia ma perché se vivi in una città giusta stai meglio piuttosto che rispetto a una città vivere in una città ingiusta ma questo come si giustifica? Non si giustifica Glancone dice esagere no la città deve essere non esiste niente Socrate esiste no al governare la città deve essere il filosofo il quale ha dimestichezza con la dialettica la dialettica che cos'è? ma l'arte della dialettica esiste l'arte della come dire è la gestione retorica sofistica dell'indecidibile di quella indecidibile di cui parla teori da in forza di legge non c'è un fondamento attuale quindi da questo punto di vista a me è un bestissimo per non sapere leggere non riesco a vedere come si dice anche in Platone si potrebbe vedere ma comunque ho qualche pezzo di appoggio su questo penso a Leggetti siamo qua no? alcune pagine fondamentali dice qui questo e si può leggere in Platone in senso materialista tenendo conto che per il vero interlocutore di Platone era il platonistico gli li combattono quelli devono combattere diventare più raffinato di loro in sede epistemologica ma alla fin fine i problemi sono quelli sono i problemi dell'infondatezza di ciò che giustifica l'atto conoscito e qua secondo me veramente il mondo si viene in due la filosofia si viene in due chi accetta questa infondatezza tra questi metto e chi non l'accetta chi non accetta questa infondatezza adesso momento che siamo a fase del dialogo e mi posso permettere di dire cose un po' più brutali chi non accetta questa infondatezza a casa mia si chiama fascista io chiamo fascista usano termini nel senso ovviamente trallato e improprio è fascista colui che mira di una fondazione unica colui che dice che cos'è il bene preso colui che non tratta dialeticamente di dare il bene colui che cioè dà un ordine e dice questo è l'ordine non c'è un altro e questo va nel senso politico va anche nel senso fisico l'analitico ci può mostrare che tutti i modi che hanno gli analitici di trattare le questioni etiche sono fortemente di destra ovviamente ho detto come battuta ma sono complici di una situazione del mondo fortemente consapevoli autorità autorità che fine è fatto ho fatto un esempio banale che fine è fatto il re di Gallin-Soulson su responsabilità ci viene considerata maluccio una roba impropria mentre il buon Gallin-Soulson dice giustamente che non si può dire mai quando un soggetto è responsabile con tutta una serie di buoni argomenti ma questo cosa significa che la responsabilità nasce dall'interazione io sono responsabile quando qualcuno mi chiede contro le mie azioni in un tribunale o in una coppia in differente d'oro quindi c'è quando c'è negoziazione Marvini quando c'è azione politica tutto quello che scrivono su Dolly ha messo in bravi a prima per dirla sì resta secondo me io venendo da questa posizione con d'accordo con Maria Reggina resta il problema dell'evidenza di alle cose stesse perché insomma questo lo piace bene l'escritto noi iniziamo come si inizia inizia nel mezzo inizia con tutto il tarico conoscenza dei pregiudizi di ciò che non sappiamo ma sappiamo e allora puoi svolgere questo esercizio veramente inizia l'escritto inizia 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 no la russa no la russa no l'evidenza prima è l'oggetto che non appena lo analizzo fenomenologicamente vedo che qua di puro di evidente non c'è l'evidenza politica è un'idea no e poi si inventa questa una forma un po' più articolata a questo mondo strano di evidenze ma non ci sono delle esperienze politiche il fenomenologo non fa che mostrare con le sue analisi l'impossibilità dell'evidenza politica mostra che l'immediatezza è abitata da infiniti strati di cui noi non ci rendiamo conto ma che costituiscono quella roba lì che noi poi un po' approssimativamente finiamo l'evidenza quindi però questo non fa chiara che c'è questa roba se non come ideale noi in un periodo dobbiamo spirare l'ideale teleologico come idee in senso kantiano questa evidenza pura non c'è né nell'esperienza opinionale né nella scienza né anche nell'esperienza fenomenologica c'è qualche domanda qui ce n'è una si chiede secondo lei quali sono le somiglianze tra la riduzione fenomenologica e la meditazione bruttosta e le eventuali differenze viene da william marcozzi che però non vedo è tra tra la casa forse le somiglianze sono quelle che ho detto sono evidenti secondo me testualmente riconoscibili e articolabili la c'è la natura del gesto con cosa si comincia a fare la filosofia secondo Husserl si comincia con questa cosa strana che non ha nessuna giustificazione teoretica si muove a fare le poche se la fai otterrai certe conseguenze scoprirai che non c'è evidenza scoprirai che ogni cosa che si dà così come si dà potrebbe darsi altrimenti scoprirai che tutto è contingente scoprirai che tutto si collega con tutto eccetera eccetera dopodiché però le somiglianze si perdono qui nel senso che ovviamente per i buddhisti devi anche andare a un maestro che ti insegna concretamente a meditare devi adottare qualche tecnica di meditazione differente quale poi si respiri quella quadratica con quell'altra che ti siedi fai lo zen no a gambe dell'otto c'è tutto nella posizione dell'otto davanti al muro con gli occhi aperti per il cottore fare vedano ripassano scegli sono mille su 80 mila anni tradizione passa di scuole di meditazione di tecniche di meditazione ce ne sono tante dopo sempre lo che vuoi no questo per tuo dipende dalla fortuna che hai o meno maestro perché se mi conto il mio maestro è difficile mettersi a meditare in maniera compiuta ma insomma adesso dicendo tanti dettagli peraltro non i rilevanti il punto chiave è che devi meditare può essere di meditazione non sa niente passa per la testa che ti debba meditare probabilmente e questo però è un problema perché il coinvolgimento corporeo che c'è nel lato meditativo è insomma già il fatto di stare attenti a come respiri è qualcosa che veramente dà la misura di una trasformazione no? fare attenzione a come respiri o non fare attenzione a come respiri tu parli di maniche meditare anche se fai attenzione al tuo respiro per pochi minuti al giorno basta già introduci una trasformazione in corso d'esperienza che comporta una cesura c'è un primo dopo quindi c'è una concretezza della pratica meditativa che secondo me è appunto tipica delle tradizioni clientali penso per il buddista in primis e questo fa la differenza che uno potrebbe dire ma anche il fenomenologio lo fa no forse lì c'è bisogno di dare diciamo noi adesso auspichiamo che sarebbe bene infatti se le nostre scuole di filosofia si insegnasse anche questo in India tu ti laurei in filosofia devi sapere bene la logica buddista la logica hinduista che conosce sei grandi scuole che sono tuttora vive secoli e secoli ma devi anche meditare basta semplicemente leggere un testo sanskrit e farci un commento sopra questo ti viene richiesto nell'esame finale no nell'esame d'aura però è evidente che c'è accanto a quello una pratica meditativa che va da sé come dire fa parte del programma di studi non so come qua sta roba ma si può si se non ci sono domande possiamo ringraziare moltissimo il nostro relatore mi vergogno un po' perché non so nel rispetto non ho iniziato a frequentare il corso di filosofia teoretica quella è una riflessione che è una riflessione personale che mi è venuta da fare me la sono scritta per cui mi è venuta a dire che voi siete tutti esperti mi sento piccolina e mi è venuta da fare questa riflessione il discorso in prima persona può portare ad effettuare delle riflessioni sia sulle leggi scientifiche su questioni più formali ma anche su argomenti più sensibili e tutto questo può estrinsecarsi nell'esperienza quotidiana di tutti i giorni e quindi ho pensato alla creazione di un mio liquido all'interno del quale si dissolvono sia il pensiero più scientifico che il pensiero più sensibile che può portare a una conoscenza un po' universale una conoscenza universale non so se che non prescinde dall'esperienza ma che può comunque portare una fonte alla verità per il mondo questa fusione di argomenti sensibili con leggi scientifiche che possono creare attraverso questa dissoluzione all'interno dell'io comunque una fonte di verità per il mondo non so se ho capito bene sì lo so è difficile perché mi leggo in mente tante cose però magari non avendo l'esperienza della rimestichezza con certi argomenti fa un po' pratica metterli sul banco a ragione su questo no no era un mio di comprensione provo a dire delle cose reagendo a quello che dice lei però se non provo se lo ho detto esatto se dico quelle che non mi incontrano quello che dice lei me lo dice certo la prima roba se sento parlare di soluzione dell'io del mio liquido penso alle psicopatologie però c'è un mio troppo liquido rischiato non stai tanto bene dobbiamo avere contezza della nostra identità personale e credere nell'illusione che io oggi sono lo stesso che ero ieri e sarò domani come sono oggi è un'illusione senza dubbio è un'illusione necessaria per mantenere un equilibrio se non altro per poter vivere in società perché se io ho del giro a dire non so chi sono gli altri mi dicono no vabbè devi sapere chi sei e comunque mostrano la caratteristica c'è un legame c'è un fondamento anche istituzionale dei processi di soggettivazione i processi di soggettivazione non sono una storia privata che riguarda la nostra vita la nostra biografia nella nostra propensione per l'attività a che fare con la necessità che hanno i collettivi nei quali siamo immersi di costruire identità stabile io devo sapere se sei maschio femmina trans se sei sano di mente se hai una psicose grave se sei malato se sei sano devo sapere queste robe per metterti al lavoro e questo è fondamentale una dimensione che ha a che fare con la violenza delle istituzioni ma la violenza necessaria le istituzioni sono una roba lì sono ciò che costituisce la norma che ci costringe a vivere dimensioni identitarie che tanto a seconda dei contesti istituzionali in cui operiamo negozieremo il nostro tasso di liquidità perché è chiaro che è meglio essere liquidi piuttosto che rigidi le persone rigide a loro volta hanno poi problemi però il margine di manovra è dato e non è scelto completamente da noi questo da un lato l'altro lato filosoficamente anche senza andare a vedere Husserl una città che ci viene in mente qua normalmente alcune pagine dalle istituzioni filosofiche di Notting con grande il suo lato del novecento anche lì quando lui si chiede cosa significa dire io ma scriva 60 settimane in pagine lui mostra che è tutto meno che semplice identificarsi con quella particella pronominale che è anche questa è una roba che troviamo data troviamo nelle grammatiche le grammatiche sono io, tu, egli noi, poi dopo noi da qualche parte ci collochiamo quando diciamo io facciamo riferimento a quella a questo delitico a questa a questa particella sincate problematica che presuppone innanzitutto la nostra presenza corporea e da qua tutti i problemi cioè se noi analizziamo fisicamente il rapporto che c'è tra questa particella grammaticale da questo pronome personale e la nostra presenza corporea è insomma è complicata la faccenda descrivere filosoficamente in modo corretto questo legame il modo in cui si dà non è affatto semplice io per io intendevo la commissione di questi pensieri che si incontrano quelli più tecnici e quelli più sensibili questo intendevo però come gli ho detto io ancora non essendo ferrata in certi argomenti non conoscendo quello di cui mi ha appena parlato forse devo lavorarci un po' solo devo riflettarci meglio oppure non devo riflettarci no no a me sembra che sia vale la pena riflettare su questo ma lo fanno per esempio visto lei nomina la scienza lo fa per esempio quella parte del discorso epistemologico che volgarmente in maniera anche pregiativa si bolla con sociologia della conoscenza penso alla tour blu e tanti altri se noi vale la pena chiedersi che legame c'è o l'ultimo bourdieu anche quello della science della science e vale la pena chiedersi qual è il la dinamica il gioco di interessi che entra in scena nella produzione del discorso scientifico lo scienziato è solo uno che ama la verità sì certo se non avesse questo commitment come si dice in inglese tra la verità non farebbe quel mestiere ma lo scienziato lavora in organizzazione come tutti quelli che lavorano in qualunque organizzazione per fare conti con dinamiche di potere no con la divisione maschiette femminucce con il maschilismo tipico delle ricerche delle accademie tutte queste robe qua e queste robe vanno studiando decisivo guardare a questi aspetti per produrre un discorso che sia anche filosoficamente fondato questo senza nulla vogliere a quella roba lì che poi si chiama oggettività della scienza perché potrebbe dire ma se studi sta roba negli oggettività della scienza la scienza ha un suo statuto ma è un'altra cosa la guarderai con un altro sguardo io poi però posso sempre direzare il guardo verso le dinamiche di potere c'è chiamata la scopera in molti testi le dinamiche di potere interne del nostro scientifico ma soprattutto esterne alla scienza la scienza è sempre come dire nel momento in cui esce da sé e si presenta nell'arena pubblica diventa strumento di legittimazione e interrogare questo come sta dicendo lei adesso non si capisce per esempio il razzismo c'è che si fa la terminazione di rinamiche mettere in camera grassa mettere in camera di rinamiche un bottiglio di droga e lo fai perché una classe nevica nella sua totalità dice ci sono le razze non c'erano da virgo fino avanti tu sapevo che non ci sono le razze ma la comunità scientifica tedesca ci sono le razze ovviamente ci sono le razze sono risposte gereticamente la razza superiore ha tutto il diritto di difendersi da questi parassiti stifosi che sono gli ebrei che vanno sterminati senza questo gesto scientifico della comunità scientifica tedesca bon hit e poveretti non avrebbero potuto realizzare questo show che era sterminare un re lo fai se e solo se perché come dice Kimmero in questo discorso nel 1942 in Polonia ognuno è facile dire sterminare un re ma ognuno di noi ha un amico e devi credere nella verità scientifica del razzismo e così via questo però a che fare questo discorso di critica della scienza nella sua funzione pubblica non intacca secondo me però l'oggettività della scienza è un dato di fatto che le razze non esistono come un dato di fatto per esempio più recente vicino a noi che poter scegliere se avere orgasmi o no è una cosa buona fa parte della risoluzione psicofisica dell'individuo poter fare questa scelta ma se io pratico l'escessione della pittoride questa scelta non si pratica più allora io ho un fondamento scientifico per poter dire che tagliare insomma di bambine non è una cosa buona ma nel fondo con una teoria della personalità che ha una base biologica negare le persone la possibilità di scegliere se è veramente sessuale o non la regla è una menù comporta una menunazione e non da poco questi sono mille gli esempi che si possono fare ma sono scusate le chiedo un po' scusa no no c'è un'altra domanda da casa non so da parte di Nicola Garau dottor Nicola Garau se vuole parla lei chi lo vede vediamo se si palesa eccoci come sta a distanza non la sentiamo Nicola allora dobbiamo mettere le chiedo ecco si ora si in realtà potevate anche leggerla l'ho scritta se pensavo dunque no volevo dire se è il professor le chiedo io non so non conosco metto le chiedo la sentiamo molto male telecomando si questo qua adesso meglio adesso bene bene no per il suo intervento io non sono non conosco bene il terzo di Hutzel però ascoltando nella ciascola domanda mi chiedevo che spazio c'è se ha spazio mi sembra di aver capito il soggetto si trasforma si trasforma nel posizionamento in aria e poi nuovamente da caldo che non finisce ma che peso ha la costruzione sociale del mondo se c'è questo spazio l'epoca è un processo solitario l'idea di evidenza non è fine negoziata nell'intersoggettività del linguaggio insomma questa è un po' la domanda che volevo porre al professore grazie saluti a casa mi raccomando adesso conosco la Torino lui è in alto se l'avevo lato con me e quindi sono dietro di rivederla a distanza allora l'intersoggettività è centrale sin da subito per russa sin dalla fase cerche logiche da lì in luce tutto il tema dell'intersoggettività l'epoca è altro non è che il gesto che io posso compiere da solo ma che poi mi porta a scoprire nell'attimo in cui lo compio che non sono solo l'epoca è di schiù dell'orizzonte intersoggettivo del mondo mi rende visibile immediatamente con evidenza il fatto che la costruzione del mondo è una costruzione intersoggettiva non solo però perché parliamo ma perché le evidenze che ho io di ciò che è vero sono evidenze che possono essere avute anche da un altro e devo supporre perché siano evidenze che ce le abbia anche un altro perché se no se la mia posizione soggettiva non fosse quella di in quanto soggetto che costruisce evidenze che sperisce evidenze non fosse la posizione che può essere occupata anche da un altro allora non potrei parlare di evidenza perché si possa parlare di evidenza vuol dire che ciò che sperisco io deve essere potere sperito da chiunque altro e qua è già tutta contenuta al tema dell'intersoggetto non presuppone chiaramente Husser non parlerà di monti sociali eccetera legge David Brühl il primo antropologo è il capitativo che è ignorante una talpa su questo campo però scopre che c'è un tizio che era David Brühl gli scrive una lettera e gli dice voi bravi voi fate quello che io dovrei fare se avessi tempo di farlo c'è bisogno dell'antropologia culturale farò un esempio poi David Brühl sta letto e non capisce niente ma per Husser era chiaro come dicevo prima che ogni ontologia deve avere una fondazione in una topologia apriolica cioè in un discorso che mi spieghi perché non esiste un soggetto singolo perché il soggetto di cui stiamo parlando è un soggetto che è un soggetto strutturalmente storico sociale questo vuol dire Husser quando parla di un'antropologia apriolica come fondamento dell'ontologia come fondamento dell'ontologia non ovviamente come fondamento di una teoria della verità perché la teoria della verità la decido in un'altra serie la decido in contesti in cui insomma intersoggettivo eccetera gli effetti della verità sono intersoggettivi ma non posso dire che la verità è una roba che si decide per convenzione o perché ci mettiamo d'accordo o perché noi vediamo il mondo in questo modo e altri lo vedranno in quell'altro ma una roba o è vera o è falsa perché inerisce le proprietà degli oggetti però il poter riconoscere la verità che la roba ci interessa di più e a fine e stabilire cosa è vero che è falsa ci interessa a un certo punto ma riconosce gli effetti della verità di inserire questo è il punto chiaro per russer questo dipende da atti di costituzione intersoggettive la costituzione del mondo è frutto di atti intersoggettivi il soggetto trascendentale di cui lui parla è l'intersoggettività lo dice testualmente non me ne sto inventando adesso mi ricordo però la fonte esatta in uno dei volumi rosserliana russerl è chiarissimo su questo il soggetto trascendentale è non ha a che fare con assomiglia no è l'intersoggettività e quindi è la storia poi noi penso a Paci a Paci di funzione di scienza di funzione dell'uomo questa storia la leggeremo con altri strumenti che non sono quelli della fenomenologia per capire cosa è la storia la leggere Marx per fare un esempio a caso o meglio ancora dal mio punto di vista Tucci di Taccito o compiere delle operazioni che non sono quelle legate alla fenomenologia ma è ovvio la fenomenologia non si occupa specificamente di quello mi spiega però perché c'è storia e lo fa da un punto di vista matematico questo a me sembra la loro più bella di Husser quello che personalmente mi attira di più nel discorso serriano Husser non va alla storia partendo da Marx partendo da Dittai partendo chissà chi o da Hegel o da Hegel arriva il tema della storicità arriva ad una fondazione trascendentale dello storico in quanto tale da matematico questo è il punto non so se ho reso l'idea l'ultimo forse mi ha fatto un bacio che si vede sopra il per l'ultimo forse grazie a voi grazie a voi e grazie soprattutto al professor Linguish grazie a voi ricordo solo che il 23 marzo abbiamo il seminario di Naoko Saito dell'Università di Chioto che sarà qui presente che è una studiosa di Wittgenstein Capella di Ui di Ui di pragmatismo tradizione amore e cani e con te grazie 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 mille